Siamo a vedere la piazza San Giovanni con due stancabili attivisti del Movimento 5 Stelle Roma andiamo a vedere se come l'anno scorso abbiamo lasciato la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata sarà un'impresa, non è detto che facciamo bella figura perché noi stiamo andando a vedere quindi magari ci troviamo i cani morti ma noi non lo sappiamo fondamentalmente vediamo però la stiamo facendo in diretta sappiamo che stiamo rischiando ci stiamo giocando molto con questo video e sicuramente già il piazzale qui lo vediamo abbastanza libero rispetto a altre manifestazioni che sono state fatte nella piazza è già abbastanza libero cosa hai detto Angelo non ho capito rispetto a altre manifestazioni il piazzale questo sembra libero di qua possiamo consumare di qua capiamo se ci siamo comportati bene o meno ecco il punto importante è la differenziata si stanno differenziando differenziamoci io di manifestazioni non fatte di San Giovanni anche è capitato il primo maggio e cose varie quando andavamo via era sempre un casino impressionante e invece l'elemento distintivo forse potrebbe essere proprio questo quindi un atto civico importante che porta diciamo le persone a una responsabilità comune diciamo che la responsabilità e la responsabilizzazione di se stessi sul piano politico parte anche da questo la coerenza che ognuno di noi deve mettere nelle proprie azioni parte da questo parte da questa piazza che è parte qualche carta però questo è qualcuno del pd ci sono stati infiltrati del pd che sono venuti a sporcare sono venuti proprio ovviamente per l'acqua di carriere però ecco diciamo che anche loro stanno spassando il nulla se lo puoi inquadrare stanno spassando abbastanza il nulla direi che può abbassare la piazza come si dice è pulita e ovviamente in questa storia formiglie non c'entra niente no no proprio no è molto importante differenziarsi anche da quella vinciamo noi vai